Andiamo, non chiamo che spari in fretta, per favore, aiuto. Lavori qua adesso? Faccio qualche giornata per Savino. Io non le voglio vendere i cavalini. E vi hai detto che partivi? Perché non sei più gentile con me? Avevi promesso che eri sempre gentile con me. Sono gentile. Forse ho trovato un modo per tenere la casa. Ascolta. Se si muove la notte lo sento. Da nove anni, ogni colpo di tosse, ogni febbre, ogni goccia di sudore. Conosco di mia figlia. Lei sa sempre che io ci sono. Basta che si volta e io ci sono. Di questo ha bisogno. Questo la cura. Ti prego. E perché la devi curare? È malata? Tu hai paura che ha come me? Tu hai paura che ha come me? Ok. E perché? Tu hai paura che ha come me?